Legge marziale per un miliardo di persone. L'omicidio di Jin Jie ha scatenato un po' di ferro. Chi era? Forse il prossimo presidente. Un progressista. Al governo chiedeva più trasparenza, giustizia e libertà di parola. E Chang ha detto che siamo stati noi a uccidere Jin Jie. Qualora doveste fallire, daremmo a Chang una scusa per indirizzare su di noi tutto quell'odio, quella rabbia, sarà guerra. Voi dovrete evacuare dei VIP dalle Z.U. Towers, sani e salvi. La missione sarà coordinata da un agente sotto copertura, Laszlo Kovic. Se non sarà assolutamente necessario, non dovrete aprire il fuoco. Wrecker, il sergente maggiore Dunn voleva che il comando passasse a te nel caso gli fosse accaduto qualcosa. Tutti noi sentiremo la sua mancanza. Fa che non mi penta di avere onorato le sue volontà. Fatti valere, ma senza dare nell'occhio. Non potete sbagliare, ragazzi. Spero non succeda nulla all'auto. Tranquillo, fratello. Andrà tutto bene. La moglie di Dunn? Non le ho ancora parlato, Buck. E poi cosa dovrei dirle? Ha sofferto come un cane. Non mi va ad indorare la pillola. Eh, Irish! Come on, senti vino! Mi scusi! Qui sta andando tutto a puttane. La polizia è nervosa. Facciamo quello che dobbiamo fare e leviamoci dalle palle, ok? Ci sta invitando a nozze, vero, Wrecker? Che cosa non darei però un caffè? Ehi, la sportofanteria è in vista. Ricevuto. Quei bastardi mi stanno puntando addosso. E tu sei naturale. Naturale? Sentito lo stronzo? Qui sono una mosca bianca, cazzo! Qualcuno vede il palazzo? Non andremo da nessuna parte, se ne vede. Ok, vai a sinistra. Sinistra! Permesso! Tutto se stavate. Eccolo, ora vedo il palazzo. Su quale piano e di quanti VIP ha parlato, Garrison? Tre con Kovic. Kovic e due locali. Ehi! State calmi, calmatevi! Svoltiamo a sinistra. È a sinistra! Siamo bloccati. Dobbiamo per forza scendere. Proseguiamo a piedi. Ricevuto. Dai, Wrecker! E' a chiuso. What the fuck? Vediamo un po'. Signori, avanti. Che vogliamo fare? Andare di corsa è una cosa. Farlo portando con noi dei VIP. È un altro paio di mani. Calma, tu. Porteremo alla panchina. Lasciapare a me. Là. Potremmo vedere dall'alto cosa c'è te. Quello emicottero non mi piace. Verbo. Ma che diavolo? I dati non parlavano, le forze speciali ciasi. Dovremmo andare là. Ma che diavolo, le forze speciali ciasi. Se si sbagliano su questo, possono sbagliarsi sulla cosa. Dobbiamo avvisare la varchia. Fortress, torino 4. Messaggio, passo. Ehi, Fortress. Ecco la situazione. Forti assembramenti di unità cinesi intorno al versare. Pausa. Sembrano forze speciali. Il numero preciso è sconosciuto. Passo. Roger, procedere come necessario. Ricevuto? Ricevuto. 4, chiudiamo. La sala principale è libera. La sala principale è libera. Dai, Recker. Vediamo cosa avviene. Preparati. Che cazzo sono? Pistole ad acqua. Andiamo all'hotel. Non lo vedo. I VIP sono all'ultimo piano. Skybar, skybridge, una roba così. Gli skybar sono sempre sul tetto. Devi chiamare la moglie di Dan. Non lo so. È solo che... Cazzo, chiudi la porta! Ehi, Waza! Ehi, via, 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 via! Cavolo, via, via! Guarda. Abbiamo appena in basso la fottuta Cina. Di lì non si passa. Abbiamo alternative. No. Non facciamoci ammazzare. Troviamo quel cazzo di VIP. Aish, Reck, guardate. Ma cosa hanno in mente? Contatto le scale. Contatto le scale. Uno in meno. Via, via, via! Viiamo a farli senti. Viiamo a farli senti. Ma c'è il balcone? Ovunque! Tutta la tua destra! Cazzo! Possiamo smetterla di farci spavere addosso! Sì! 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 Non ce ne sono più? Sì! Credo di sì! Forza! Verso la sala VIP! Un cancello! Dommi una magia! Vada! Ci vorrà un secondo! Un cancello! Un cancello! Non fa bene! Va verso il tetto! Osserva le finestre e stai pronto! Per caso hai qualche claymore rack! specifico! Informatore e unser In posizione! Faccio prima che posso Facciamoli avvicinare Poi li falciamo Buck, datti una mossa Ci siamo quasi Bene, siamo a posto Forza ragazzi, io ho fatto Il gioco da ragazzi Qui dovrebbe esserci una scala Ci siamo State tutti bene? Stai bene, Rek? Via, via Ecco il nostro piano Libero Siamo vicini I nostri VIP? 38 Oh no È la nostra stanza Falca troia Maledizione Non ci sono superstiti Siete in ritardo Non è semplice aprirsi un varco contro una squadra di ricerca attiva Per questo mi sono spostato Se puoi spostarti da solo, noi è che ti serviamo Attraversare la strada non è come attraversare la hut Forza re Dov'è il fulgone? Il fulgone? Non possiamo usare le strade Ci sono i cinesi Ah, davvero fantastico Chi sono questi VIP? Sono persone importanti Una donna col marito Li porteremo fuori sani e salvi Vi basti questo Sono Anna Questo è il mio marito Grazie per essere qui Chiedo scusa, signore Scusi, signora Parlate la nostra lingua State bene Potete muovervi Mio marito è ferito Deve riposare Negativo, niente soste Ho visto degli elicotteri sul tetto Andiamo Allora saliamo Cosa? Voi lo prendete Io lo faccio volare Questo è il piano Che ti piaccia o no? Ho idee migliori, sergente Da quando rubiamo gli elicotteri? Avete finito A mio marito servono cure Tutta questa violenza Dove può portarci? Questo non è il gioche Grazie per essere venuto, sergente Sono felice che siete qui Andiamo Ora Forza Forza Via, via Giù la testa State giù Andiamo, rech Se non funziona Siamo cottuti Non abbiamo altra scelta Fate strada Signore, signora Aspettate qui Bene, si sala Sargente Rekker Elicottero in sicurezza Intenta Non riesco a beccare coi figli di carne. 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 Riker, ci siamo! 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 Riker! Riker, ci siamo! Riker, ci siamo! Riker! Riker! Riker, ci siamo! 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 Riker! Riker!